La sanità e le opportunità in campagna al centro del nostro dibattito oggi in compagnia del dottor Giuseppe Noschese, presidente dell'IDMA. Buongiorno e benvenuto a Mattina Live. Buongiorno, grazie per l'invito. Ecco, partiamo proprio da dati importanti perché il rapporto Svimez delinea una divisione netta del paese. Si aggravano quindi le disuguaglianze proprio con Nord anche per il penalizzante riparto di fondi. Alla campagna tocca la maglia nera, dati da commentare che sicuramente preoccupano non poco. Sicuramente, nonostante a suo tempo il PNRR aveva previsto dei fondi molto importanti per la sanità nazionale, qualcosa come 16 miliardi e rotti. Ora con l'autonomia regionale si corre il rischio che la campagna, il sud, non potrà accedere più a quei fondi che precedentemente erano stati previsti. Qual è il problema? Il problema è che se le regioni del Nord, che notoriamente hanno uno sviluppo industriale superiore, hanno un PIL superiore al sud, laddove le regioni decidessero di essere più attrattive nei riguardi dei professionisti della sanità, sicurerebbe il rischio attrattive sotto l'aspetto economico prevalentemente, sicurerebbe il rischio in maniera molto verosimile di penalizzare ulteriormente la sanità del sud, che è una sanità che ha funzionato e ha retto bene fino ad ora, anche perché c'è stata da parte di tutti, parlo sia a livello professionale e anche a livello politico, c'è stato un grosso impegno riguardo questo settore, però si corre il rischio di vedere depauperate le file delle corsie, dei pronti soccorsi, in quanto potrebbe giungere dal Nord una proposta economica più interessante, quindi continueremo a perdere questi giovani che già hanno perso molto di quell'APIL che c'era una volta nei riguardi del mondo della salute. Sì, ma stiamo parlando di una regione ad oggi al primo posto per mortalità evitabile degli uomini e delle donne, quindi siamo così in difficoltà ancora prima dell'autonomia differenziata. Quali sono le cause? Ma io non so questi dati se hanno un fondamento, perché la sanità campana, che devo dire conosco molto bene, perché ci ho convissuto e ci convivo attualmente in maniera molto attiva, la sanità campana è una sanità che è sempre stata all'altezza del proprio ruolo. Sicuramente quello che non condivido questi viaggi della speranza che vengono fatti andando al Nord o andando all'Estero, che tra l'altro gravano in maniera sostanziale sul bilancio regionale. Oramai dobbiamo considerare che il mondo della sanità funziona in gran parte per protocolli e linee guida, per cui quello che viene fatto a Trapani o a Matera è uguale a quello che viene fatto, parlo di protocolli naturalmente, non di infrastrutture, è uguale a quello che viene fatto a Tokyo. Questo specialmente in ambito oncologico è molto ma molto importante. Quindi direi che al momento i dati di una sanità campana in ginocchio non sono dati che differiscono eccessivamente da una sanità nazionale. Naturalmente è tutto migliorabile, è tutto perfettibile, per cui l'auspicio è che questa autonomia differenziata, che è stata presa sotto legge di alcune forze politiche come uno strumento elettorale. non penalizzi poi alla fine un mondo, quello della sanità, che già di per sé è molto insofferente. Tra l'altro De Luca accusa il governo, le condizioni di lavoro non sono di certo favorevoli ovviamente per il settore sanitario. Tra eccellenze e ricerca di primo ordine sicuramente, perché allora il Sud non è valorizzato? Ma non si tratta di... Noi, a parer mio, dobbiamo finire di piangerci addosso. Io ho sempre guardato con grande diffidenza chi ha voluto dare queste immagini del Sud molto retro rispetto al Nord. Io credo che noi abbiamo risorse professionali molto ma molto importanti che nulla hanno da invidiare al Nord o al Centro. A volte ci facciamo male da soli, piangendoci addosso, rimurginando su situazioni che poi molto spesso non rispondono alla realtà. Noi abbiamo veramente delle eccellenze in Campania, ma parlo anche del Sud, in ambito sanitario che nulla hanno a che invidiare. Se solo volessimo pensare alla Fondazione Pascale, che rappresenta in Europa un punto di riferimento in ambito oncologico, se volessimo pensare agli ospedali che offrono una proposta sanitaria in particolare nell'ambito dell'emergenza, quali possono essere il Cardarelli, l'ospedale del mare, lo stesso Monaldi, per non parlare poi dei policlinici. Sono strutture che funzionano perfettamente, dove ci sono professionisti valenti, e però molto spesso noi continuiamo a piangerci addosso e a farci del male da solo. Personalmente non condivido questa posizione. Quindi il problema forse è più sui pronto soccorso? Il problema del pronto soccorso è un problema nazionale, anzi direi internazionale, perché questa problematica è nata in Inghilterra da una quindicina o una ventina di anni. Ricordiamoci che il sistema sanitario inglese è in mano a risorse indiane o pakistane, perché anche lì un po' alla volta c'è stato un depauveramento di professionalità locali. Per quale motivo? Perché probabilmente la sanità non è più un settore che riscuote interesse da parte dei giovani. E poi a cascata il problema è arrivato anche da noi. Sicuramente i test di accesso alla facoltà di medicina hanno rappresentato e rappresentano tuttora un ostacolo importantissimo. Sicuramente è stata fatta una pianificazione sbagliata dalla politica negli anni passati. Non si è fatto un adeguato controllo sui pensionamenti, sulle malattie che hanno depauperato le strutture sanitarie in relazione ai nuovi accessi. Anzi, li abbiamo penalizzati questi nuovi accessi con questi test a medicina che a parer mio non hanno nessun motivo più di esistere. Andrebbero aboliti e consideriamo che se questi test li abolissimo oggi, il problema lo risolveremo nel 2035, perché ci sono sei anni di studio per la facoltà di medicina, poi ci stanno le specializzazioni per le quali ci vogliono un minimo di quattro anni o di cinque anni, per cui posponiamo la problematica tra 11 anni per risolverla. Immaginate ora in questi 11 anni se non si trovano soluzioni adeguate, in che situazione verserà la sanità, ma non solo in Campania, a livello nazionale. Quindi premesse sicuramente non felici se pensiamo anche al dopo autonomia, il turismo sanitario che sta diventando sicuramente una realtà da affrontare. Con quali mezzi? Con i mezzi dei privati. È il problema che a sud ci sono pochi privati che possono permettersi assicurazioni valide. Dico valide perché poi molto spesso l'assicurazione diventa un bonus che viene pagato, che però non dà tutte le garanzie all'assicurato che deve intervenire con una franchigia o con delle limitazioni. Ora se volessimo dare un'adeguata copertura, tanto per fare un esempio, all'americana dovremmo pagare queste assicurazioni sanitarie delle cifre che sicuramente non saremo al sud in grado di poter affrontare, ma non al sud, ritengo anche al centro nord. Quindi questa utopia di andare incontro a una sanità privata è qualcosa che al momento non è realizzabile in Italia. Sicuramente nel tempo è un modello che può essere preso in considerazione, però al momento non abbiamo le risorse per poterla portare avanti. Ecco, poniamo sempre l'accento sull'importanza della prevenzione sui cittadini. Nello studio si evidenzia appunto che al sud la speranza di vita è minore di 1,5 anni. C'è un quadro quindi davvero serio da affrontare e non c'è neanche molto tempo per risolverlo. Come si può intervenire? Proprio lei l'ha detto, proprio con la cultura della prevenzione. Si è visto che ad esempio in ambito femminile la prevenzione delle malattie oncologiche che colpiscono la sfera genitale femminile, il seno, ha avuto un cambio di rotta importantissima con la prevenzione e con la cultura del check periodico. Bisognerebbe arrivare un po' più in periferia e laddove non riuscissimo ad arrivare con un messaggio culturale si dovrebbe avere anche la capacità di arrivare con un messaggio materiale che significa arrivare con dei camper in aree culturalmente meno propense alla prevenzione e fare degli screening. Ma per fare questo bisognerebbe cominciare ad agire già nelle scuole, cominciare a trasferire ai ragazzi l'idea che la salute è un bene inestimabile e che va periodicamente controllata proprio per evitare l'insorgere di malattie. Ebbene, noi la ringraziamo di essere stata in nostra compagnia stamattina. Quindi ringraziamo ancora una volta il dottor Giuseppe Noschese, presidente dell'IDMA. Piccolo brecca tra pochissimo con Mattina Live.